ciao a tutti amici del bosco e benvenuti in questo nuovo video di questo nuovo martedì questo è un video in collaborazione con sugardani89 che è la mia amica che avete visto nel blog del cibus non so se avete già visto il video se non l'avete visto andatelo a guardare per questa collaborazione ci siamo chiesti cosa facciamo cosa facciamo cosa non facciamo alla fine abbiamo deciso di fare una ricetta vegana io vi propongo delle salsine per un aperitivo vegano quindi se avete degli ospiti vegani o siete voi stessi vegani non sapete che cosa fare queste sono delle salsine che si preparano in un minuto contato perché ovviamente le bisogna solo frullare ma sono buonissime perché le ho fatte l'altra volta per una festa le ho assaggiate sono davvero buone sono semplicissime sono velocissime sono un'idea per arricchire i vostri aperitivi vegani quindi spero che la ricetta vi piaccia e vi lascio agli ingredienti a dopo buonissime Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.